Giulia Elettra Gorietti Giulia Elettra Gorietti grazie Giulia per essere tornata ciao come stai? bene grazie grazie, ti do un microfono se mi dai un bacio ti do un microfono ecco, grazie per esserti messa tu palazzina, il mio onore grazie per averlo notato ci paghi ci paghi limoni su quelle scarpe ecco ho evitato apposta ma lo sanno che ce sto io quando ci sto io vogliono apparire allora tu che stai a fare? stai a girare un film? non lo puoi dire non è ancora un reato ah sì, ho finito appena di girare un film nel quale entriamo moltissimo che uscirà poi a novembre oggi sono qua con voi per parlare di tu ne hai fatto parte di questa famiglia sì, sì, sì per me è stato molto emozionante l'anno scorso perché Mattis forse si ricorda ho grande difficoltà a parlare davanti a tante persone mi emoziono molto e quindi dovevo dire molte più cose di quelle che dirò oggi è stato è stato